buongiorno ragazzi come vi avevo promesso un saluto anche dal mio gattino come vi avevo promesso ecco c'è paura del bestione come vi avevo promesso ecco il video descrittivo dei paramani originali della nostra morini ekscape 650 andiamoli a vedere da vicino esteticamente sono fatti così praticamente io pensavo che questo inserto fosse di materiale cromato alluminio invece semplicemente plastica sono due inserti di plastica che si assemblano insieme adesso vi faccio vedere come però hanno comunque un effetto a contrasto molto bello e abbastanza scenografico le ho già graffiate perché purtroppo sono comunque abbastanza massicci e allargano il manubrio della moto per farle entrare nel mio garage purtroppo dato che è stretto ho toccato però va beh questo è il paramano di destra vi faccio vedere come si presenta la motocicletta vista davanti e questo è il paramano di sinistra ecco qui i paramani sono molto molto belli quindi come vi dicevo sembrava che questo inserto fosse di alluminio cromato invece sono semplicemente due parti di plastica che si assemblano però questa questo trattamento questa componente a questo trattamento che lo fa sembrare insomma cromato metallizzato e poi va a contrasto con quest'altro pezzo invece di plastica e grezza però ha un effetto visivo comunque molto molto bello i paramani arrivano in due scatole separate quello di destra e quello di sinistra quindi queste due componenti arrivano smontate vanno montate insieme e si fissano con questo perno quindi questo è quello di sinistra e quello di destra ha fissato con quest'altro perno e quindi queste due componenti vengono fissate insieme e il paramano poi può essere montato sul manubrio della nostra motocicletta come si monta allora vanno rimossi i due bilancieri quello di sinistra e quello di destra procedimento è lo stesso si rimuove il bilanciere si rimuove il perno all'interno si posiziona il paramano sulla testa del bilanciere coperno si butta dentro si fissa e quindi paramani sono montati per quando riguarda il posizionamento sul manubrio invece i paramani sono provvissi di queste due staffe questa è la staffa del paramano di sinistra e questa è la staffa del paramano di destra come funzionano per montare il paramano di sinistra una volta fissata questa parte va rimosso lo specchietto quindi lo specchietto si svita la staffa va fissata prima sul paramano con questo perno poi va posizionata quest'altra parte della staffa sul buco dove va avvitato lo specchietto e si può riposizionare lo specchietto si servono tutti insieme si riposiziona qui il gommino il paramano è bello che è montato vi faccio vedere anche il gioco in estersata del paramano di sinistra ecco qui e non abbiamo avuto problemi col montaggio del paramano di sinistra per quanto riguarda invece il paramano di destra ci ha dato un po più il filo da torcere perché perché una volta posizionata la staffa praticamente paramano di destra invece si posiziona sempre il bulloncino per fissarlo sul paramano stesso e poi invece la staffa non va messa sotto lo specchietto ma c'è un apposito foro sulla bomba del freno si infila il perno al di sopra e si serve sotto col suo bulloncino questo è il posizionamento del paramano di destra però abbiamo dovuto registrare un poco la posizione sia del blocchetto sia della bomba del freno tirarla un po più su perché in sterzata il paramano andava a toccare nella freccia non mi permetteva di girare interamente in manubrio invece in questo modo registrando al millimetro il blocchetto vediamo come il paramano passa filo filo sopra la freccia in maniera millimetrica e quindi è anche bello da vedere ci fa vedere come la murini auto anche ha calcolato anche dei dettagli millimetrici per quanto riguarda gli assembramenti delle componenti ecco qui guardate faccio vedere anche dalla posizione di guida adesso ci passa perfettamente sopra e abbiamo dovuto registrare un po al millimetro quindi vari tentativi di posizionamento del blocchetto